Potevamo vincere, pareggiare, anche perdere, siamo stati bravi a rimanere in partita e a fine l'episodio ci ha favorito noi, mentre altre volte non ci ha favorito. È stata una partita equilibrata, loro è stata una delle migliori squadre dal punto di vista del gioco, della qualità, anche della qualità dei giocatori, degli over, degli under, ma questo io lo sapevo, ve l'avevo detto, che era la squadra che giocava bene, però le occasioni le abbiamo avute, anche loro le hanno avute, però si è stati bravi a non concedere palle gol clamorose, hanno avuto delle situazioni dove potevano anche far gol. I gol sono sempre evitabili, poi non è che non possiamo quasi mai sbagliare, non dovevamo secondo me prendere l'1-1, perché abbiamo preso un contropiede che stavamo vincendo 1-0, dovevamo essere più bravi in quella situazione lì, poi su calcio piazzato loro sono bravi e hanno messo una palla sul secondo palo, credo che fosse stato Ciofi, è stato un po' trattenuto, ma l'arbitro non l'ha visto e ci hanno fatto gol, ma sono stati gli unici due episodi nel primo tempo, abbiamo più rischiato nel secondo secondo.